Buongiorno a tutti e buon sabato da Andrea Cartotto. Quest'oggi un videocorso a richiesta che fa fronte alle tantissime domande pervenute da moltissimi docenti di ogni ordine e grado sul come realizzare con facilità una animazione in formato video piena di elementi multimediali. La migliore risorsa esistente da anni e che da anni tratto nei miei corsi in presenza ad alunni e colleghi si chiama Powtoon, scritto esattamente come lo stiamo vedendo a schermo Powtoon. Questa risorsa, cominciamo a mettere diciamo degli indicatori chiari, è una risorsa cosiddetta freemium, cioè con una parte totalmente gratuita con un account free libero e da alcune funzioni che però risultano facoltative disponibili appunto in una modalità pro. Come in moltissimi casi e credo sia importantissimo per un docente aver nozione di questo, si tratta di una risorsa che strizza l'occhio alla didattica ma viene utilizzata anche nel mondo della comunicazione e del marketing dunque per comunicare. E cosa c'è di meglio allora per un docente se non riprodurre in digitale una storia e fare anche dello storytelling? Iniziamo e vediamo come si fa a creare il nostro semplice ed accattivante lavoro. La prima procedura per chi non è mai stato su Powtoon sarà di cliccare su sign up free ed effettuare la prima registrazione che io consiglio di fare con account google dunque gmail personale o account scolastico g suite. Nel mio caso io clicco su login, quello che andremo a fare tutti dal secondo accesso in avanti. Io siccome ho un vecchio account addirittura accedo con un indirizzo email di altro fornitore, in questo caso di libero, ma voi procedete come dicevo cliccando su continue with google. Eventualmente con linkedin per chi lo ha, croce come sempre su facebook e altri servizi per non dare a mo' di scatola cinese una serie di informazioni su ciò che noi facciamo. Allora io accedo, vado ad inserire questo mio vecchio account, sempre buona regola avere più di un account di posta, questo ormai mi permetto di darlo per scontato per poter così diversificare e non ritrovarci un flusso di email e di informazioni. Allora, cosa vogliamo creare? Queste sono le nostre categorie, in gergo i cosiddetti templates. È possibile anche lavorare su un foglio bianco e in quel caso dovrei cliccare su blank powtoon. Vi mostro che se io clicco su more templates, guardate un pochettino. Abbiamo anche la possibilità di vagliare delle categorie. Ecco il famoso indicatore pro plus, pro più. No, noi utilizziamo i modelli free. Naturalmente, utile powtoon anche per comunicare a bambini e ragazzi i tempi in cui stiamo vivendo, ci sono dei template gratuiti e limitati nel tempo sul coronavirus ad esempio e le indicazioni da poter fornire. Io clicco la mia tendina all, vado proprio a prendere il modello education e poi vado a cliccare su teacher. Ed ecco i nostri modelli. Abbiate cura di scegliere un modello tra quelli proposti in modalità free. Io per esempio prendo questo, il numero 5, quick facts. Pensatelo, quindi guardiamo anche l'obiettivo nel digitale, non l'utilizzo di uno strumento tanto per fare. 5 quick facts può essere utile per illustrare un argomento in 5 fasi. Ad esempio, clicchiamolo, io clicco su use e adesso ci troveremo davanti alla nostra area di lavoro. Attenzione, so che è banale ma desidero dirlo per correttezza, una web application è powtoon, dunque necessita rigorosamente di collegamento ad internet, almeno discreto, non si scarica nulla sul computer. Ecco qui il ricalco dell'area di lavoro di un programma di presentazione. Le miniature a sinistra, la nostra area di lavoro al centro, il fattore di zoom, l'indicatore che ci consente di decidere se noi vogliamo una modalità orizzontale, il 16 noni. E io vi consiglio di utilizzare questa, che come vedete è prevista ad esempio per YouTube. YouTube. Poi vi sono anche modalità quadrate o verticali, come vi ho detto è uno strumento che nasce anche per ulteriore esigenza, però mettiamo caso che si abbia, che qualcuno di noi abbia una pagina Facebook dove si rivolge ad utenti in possesso dei requisiti d'età per comunicare la didattica, è un video che può essere trasferito poi anche lì. Prima cosa da fare, cliccare sull'interruttore che da edit passa in modalità create, altrimenti non ho la linea del tempo, d'accordo? Con gli effetti che vado ad applicare e non ho le barre degli strumenti a destra. Ora, attenzione bene, facciamo un breve commento. Allora, le scene sono il contesto, cioè la struttura. Parole povere, quella che stiamo vedendo davanti con Five Facts About Earth è una scena. Poi andiamo a destra, commentiamo un secondo i pulsanti. Background ci permette di scegliere uno sfondo, sfondo della pagina, tra quelli offerti, oppure ancora di poter scegliere con My Media uno sfondo personale, con immagine personale. T ci permette di aggiungere un testo, testo personale, così articolato, title, testo grande, sottotitolo, subtitle, corpo del testo, body text, dal più grande al più piccolo. Poi abbiamo i characters, che sono i personaggi molto carini, per esempio per bambini e ragazzi. Props, che sono i gesti o le icone da poter posizionare sul foglio. Tutto ciò si fa con il trascinamento o il click, ora lo vediamo. Images, prese tra immagini free, cioè correttamente inseribili senza violare alcun diritto di autore. Videos, nel senso che ho la possibilità di incorporare anche dei blocchi video, personali e non prelevati, dunque riportati da YouTube o altrove, oppure ancora dalle categorie presenti ed offerte da Powtoon. Sound, molto interessante, colonna sonora, anche in questo caso messa a disposizione da Powtoon senza ledere alcun diritto. E poi specials, che è sostanzialmente una sezione dedicata a blocchi e sezioni particolari legate ad esempio a vacanze, stile cartoon, giorno del ringraziamento, Natale e così via. Allora, vi suggerisco per iniziare di prendere confidenza provando a eliminare ciò che già è presente. La versione free di Powtoon lascerà questa piccola firma in basso a destra. Francamente, essendo una risorsa ottima, possiamo anche accettarla e senza ricorrere a piani premium. Allora, la modifica si fa al click. Se io clicco, come vedete, io ho la casella di testa, la casella di testo, scusate, posta in evidenza, vado a selezionare, siamo nella videoscrittura in questo caso, e a decidere la grandezza del corpo del mio testo. Se desidero un grassetto bold, un corsivo italico, un sottolineato underlined, il colore di riferimento ed altre voci. In questo caso, io potrei chiamarlo 5, poi clicco su facts, ok? Cliccate piano. Stiamo lavorando con una risorsa fatta in linguaggio HTML5, interamente web. Non insistete, perché è come se stessimo lavorando su di un programma strutturato. Ci vuole il tempo che la funzione sia attiva. Quindi, in questo caso, io potrei mettere 5 dubbi, clicco su about, ok? Vedete che vado sempre ad agio, doppio clic per avere la mia casella di testo, 5 dubbi, sulle doppio clic, cellule. Sto immaginando di lavorare per scienze, eh? Tengo premuto il mio tasto sinistro sul pallino, che equivale alle maniglie di ridimensionamento di molti altri applicativi. Tra parentesi, 5 dubbi, io l'ho pensata come una domanda risposta, no? Da presentare agli allievi. Però, invece che 5 dubbi, andiamo a mettere 5, vediamo un pochettino, 5 info sulle cellule. Sta a noi poi strutturare l'attività, eh? Se noi costruiamo un lesson plan prima, quindi abbiamo idea di come avere la nostra lezione, diapositiva 1 ti presento la problematica, diapositiva 2 l'articolo, diapositiva 3 la espongo, diapositiva 4 la chiudo, ecco che ho una struttura di lezione. 5 info sulla cellule, molto bene. Potrei poi andare a inserire ulteriori elementi. Lo faccio per mostrarvi, ad esempio, cosa sono e come si utilizzano i characters. Qui ne ho già alcuni, però guardate bene, pensando soprattutto alla didattica. Clicco su choose another look, clic, e qui scelgo la categoria dalla quale attingerò per i relativi personaggi, i characters. Clicco cartoon. E guardate cosa cambia, che ho differenti categorie, prendiamo quelle free, come vi ho spiegato, un click, si apre il menu a tendina e prendiamo per esempio il nostro alunno. Non ho cliccato, mi sono posizionato con il puntatore ed ho, anche in questo caso, gli effetti già animati. Se io mi soffermo per un paio di secondi sul personaggio, vedo la sua animazione. Ad esempio, point, clic, un clic, ecco il mio personaggio già con la sua animazione. Tengo premuto il tasto sinistro e trascino, lo posiziono in questo caso in basso. Questi effetti ve li mostro temporaneamente, però arrivate al dettaglio dopo aver prima creato un powtoon di base. Ad esempio, il pose mi permette di ripensare alla posa scelta in origine e cambiarla ora. Il pulsante del flip, ve lo mostro, è questo, tac, tac, il cambio di lato. L'ingranaggio dove presente mostra sempre delle ulteriori possibilità. D'accordo? A questo punto, come vedete, compongo con clic e trascinamento la mia diapositiva. Semplicemente vado a prendere, non so, un images, images, clic. Abbiamo la possibilità di fare l'upload immagini personalizzate. Volete creare gli auguri di Pasqua per gli alunni? Potete caricare una immagine personale, fosse anche il volto del docente, per cui diventa una, attenti, video-lezione, asincrona, non trasmissiva, dove il docente appare in formato immagine e ciò che lui dice viene riportato in forma di testo. Vediamo un pochettino, se io clicco per esempio cellula, la ricerca si fa in italiano e in inglese. Pautun naturalmente non è risorsa nata da noi. Vediamo un pochettino, se io metto cellular. Cosa va a proporci? E non è detto chiaramente che vada sempre bene. Vediamo un po' se io metto cellula e basta. Cosa ci viene offerto? Vedete, su questo tema, cioè la parola chiave non si presta particolarmente. Fate delle prove o caricate delle immagini personali già selezionate. Vediamo un pochino se io metto science, ad esempio. Invio. Qui ho notevoli più risultati. Vediamo un pochettino. Show more. Ne vado a vedere degli altri. Per cui ho tutta una serie di immagini da poter abbinare ed utilizzare. Ok? Ora ne metto una di puro esempio. Dai. Vediamo un pochettino questa. Click. L'immagine si posiziona. Solite maniglie di ridimensionamento. La vado a prendere. La trascino. Questo è l'indicatore per la rotazione. Tengo premuto e me la porto così, ad esempio. Un clic al di fuori. I pulsanti che vediamo qui sotto, quindi sopra la linea del tempo, sotto l'area di lavoro, sono il pulsante per riprodurre questa slide, il pulsante più grande. Vediamo un pochettino. Vedete, con un clic scorre e va avanti, cioè da quel momento in avanti. Quando dovete controllare man mano cosa sta accadendo, voi venite nella linea del tempo, portate il cursore sempre al principio, già che ci siete fate anche un clic sempre su pagina 1, non date mai niente per scontato e a questo punto poi avete pulsante play slide, pulsante di riproduzione generale. clic sul primo, vediamo che nel frattempo scorre il nostro lavoro e si ferma. Il secondo pulsante avrebbe fatto scorrere la sequenza. Il pulsante che troviamo tra una diapositiva e l'altra serve per applicare l'effetto di transizione, il cambio della pagina. Ok? Quindi ad esempio uno zoom out può essere un effetto da applicare. Vediamo un secondo, clic. Triangolo questa volta blu. Ora qui abbiamo scorso molto rapidamente, però insomma avete capito che in un caso attivo la mia sequenza. Il pulsante musica, allora intanto guardate con la X chiudo science, eh? Andate sempre per gradi. Ok? Sequenzialità negli applicativi digitali. Poi clicchiamo sulla nostra icona a forma di nota musicale. Stesso meccanismo delle immagini. Cerco per ipotetico nome, per categoria in italiano o in inglese. Oppure mi vado a prendere il riferimento. Non so, voglio time for to. Clic su use. Ok? A questo punto ho la possibilità di avere il mio audio applicato. Led voice over. L'ho già mostrato nel mio videocorso che trovate qui sempre sul canale Trainer Andrea su Adobe Spark Video. Vi invito a vederlo lì il voice over. È la voce dell'insegnante a corredo del nostro lavoro. A questo punto io chiudo con un clic su X. Ed ecco il nostro lavoro così costruito. A questo punto poniamo di aver terminato. Il salvataggio è in cloud, quindi se manca la corrente non accade nulla. se siamo preoccupati di tanto in tanto possiamo cliccare su save. Ritroveremo il nostro lavoro entrando su Powtoon nella nostra area riservata. Alla fine clicc su preview and export. Abbiamo una dimostrazione di ciò che abbiamo fatto. Voilà. Vedete intanto gli assemblamenti. Voilà. ecco la nostra costruzione molto carina. Io clicco su export e a questo punto vediamo un pochettino che cosa ci troviamo davanti. Abbiamo la possibilità di fare che cosa? Allora di effettuare il download lo stesso scritto in formato pdf o ppt presentazione. Perdo la multimedialità però nel caso del pdf ce l'ho come azione di storytelling. Ho il cosiddetto storyboard. Ho le diapositive sequenziali. In ppt ho comunque le transizioni. Per quanto riguarda ciò che a noi occorre io consiglierei sempre di cliccare create o di cliccare youtube. per posizionare questo tipo di video sul canale youtube del docente. Se un video ricordo che non deve essere pubblico va caricato con la modalità non in elenco. Clicchiamo su youtube. A questo punto mi chiede di aggiungere head account il canale youtube per la pubblicazione. Io qua in questo caso ne ho uno mio istituzionale però posso aggiungerne poi diversi. Scelgo in che modalità deve essere il mio video. Potete metterlo come unlisted. Potete annotarlo come public. Diciamo che poi interverremo su youtube. Io in questo caso provo a mettere unlisted non in elenco. Clicco su next. Non riusciamo a collegarci al tuo account youtube. Ricollegati. E allora entro un attimino sul mio canale personale trainer Andrea appunto. Lui me lo chiede. Io clicco sul mio. Io clicco consenti. Ciò varrà per ciascuno di voi. Ecco il mio account e lo seleziono. Quindi supporta la pubblicazione su più canali. Potreste avere un canale della classe condiviso dagli utenti del team. dei docenti dunque del team. Avete tutti le medesime credenziali. Potete magari accedere anche qui. Però un clic su ciò che ci interessa. Next. Perfetto. A questo punto compiliamo i campi. Cioè come si chiama il video? Che categoria ha? Nel nostro caso sarà education. Come deve essere? Public perché in realtà nella versione free di Powtoon è la modalità che mi viene proposta. Clicco su next. Scelgo le qualità. Viene messa a nostra disposizione la qualità HD. Ridi il non pieno HD però il 720 pixel che ci dà la maggiore qualità. Un pochino più di peso eventualmente nel nostro flusso. Preferite il 720 dove è possibile al 480 pixel che è la classica risoluzione base di youtube. Comunque non è brutta. Show branding sì perché nella versione free la firma il watermark di Powtoon risulterà sempre presente. A questo punto cliccando su upload il mio caricamento è terminato. Ora io non lo completo perché desidero cliccare su back. Desidero ancora cliccare su back. Desidero cliccare qui su cancel perché vi voglio far vedere secondo modo di esportare. Clicco su export. Dunque sono tornato indietro. Questa volta io posso fare ad esempio create click. Cosa ottieni con create? Ottengo un link che posso diffondere per la visualizzazione del mio Powtoon all'interno di una finestra di riproduzione di Powtoon. Vedete che sono i medesimi campi quelli a nostra disposizione? Clicco. Rimetto education come categoria. Vado a cliccare su next. Vedete che è la medesima operazione di prima. Un clic su export Powtoon. E a questo punto cosa vi volevo mostrare? Vedete che la finestra è differente. Qui si carica l'anteprima del Powtoon. Guardiamo un attimino qui sotto. Ecco la modalità link catena click. Quando ho questa spunta verde significa che se io ora vado ad aprire la mia email ad esempio. Quindi apro una nuova scheda del browser. Clicco su gmail. D'accordo? Poniamo questo esempio. Clicco su scrivi e vado a comporre una nuova email mentre abbiamo il nostro caricamento in corso. Vediamo un pochettino di di aver la possibilità. Vedete che io poi clicco in un punto vuoto. Tasto destro. Incolla. Ed ho ricavato il link univoco di riferimento del mio Powtoon. Questo lo posso copiare e incollare nel registro elettronico. Diffondere con altri mezzi dove io possa trasferire un link. Consiglio personale sempre quello di preferire la modalità di pubblicazione su youtube perché potete avere una gestione ottimale. A questo punto che dobbiate formulare gli auguri agli alunni o che sia una tecnica di racconto da utilizzare ora ed in futuro sono lieto di avervi spiegato passo passo come utilizzare Powtoon e lascio ora la palla a voi perché possiate mettere in pratica quanto ho avuto il piacere di raccontarvi. Mi trovate come sempre su www.andreacartotto.education e sul mio canale youtube Trainer Andrea. Un caro saluto e grazie a voi per l'ascolto e l'attenzione.